La casa dei fiamminghi di Georges Simenon Capitolo primo Anna Peters Quando Maigret scese dal treno alla stazione di Givet, la prima persona che vide, proprio davanti al suo scompartimento, fu Anna Peters. Nemmeno avesse previsto che si sarebbe fermato esattamente in quel punto del marciapiede. Non ne pareva sorpresa e neppure compiaciuta. Era identica a come l'aveva vista a Parigi, a come doveva essere sempre. Portava un tagliore grigio ferro, scarpe nere e uno di quei cappelli di cui in seguito nessuno ricorda più né la forma né il colore. Lì, sul marciapiede spazzato dal vento, dove si aggiravano pochi viaggiatori, sembrava più alta e un po' più robusta. Aveva il naso rosso e teneva in mano un fazzoletto appallottolato. «Ero sicura che sarebbe venuto, signor commissario. Era sicura di se stessa o di lui?» L'accolse senza neppure un sorriso e passò subito a chiedergli «Ha altri bagagli?» «No, Maigret aveva soltanto la sua borsa a soffietto di spesso cuoio annerito e se la portava lui nonostante il peso». Dal treno erano scesi solo alcuni passeggeri di terza classe che erano già spariti. La ragazza porse lo scontrino d'ingresso all'addetto, il quale la guardò con insistenza. In strada riprese senza alcun imbarazzo. «In principio avevo pensato di prepararle una stanza a casa nostra, ma poi ci ho ripensato. Immagino sia meglio che lei stia in albergo, quindi le ho prenotato la camera migliore all'Hôtel de la Meuse». Avevano percorso non più di cento metri nelle viuzze di Givet e già tutti si voltavano a guardarli. Maigret camminava lentamente trascinandosi dietro la valigia. Cercava di osservare ogni cosa, le persone, le case e soprattutto la sua accompagnatrice. «Che cos'è questo rumore?» chiese sentendo un suono che non riusciva a identificare. «La mosa in piena che batte contro i piloni del ponte. Sono tre settimane che la navigazione è ferma». Quando sbucarono da un vicolo, si trovarono all'improvviso di fronte al fiume. Era largo. A stento si distinguevano le sponde. In alcuni punti, l'acqua scura aveva inondato i prati. Qua e là emergeva un capannone. C'erano almeno un centinaio di chiatte, draghe e rimorchiatori stretti l'uno contro l'altro a formare un enorme blocco. «Ecco il suo albergo. Non è un granché. Desidera fermarsi a fare un bagno?» Era incredibile. Maigret non riusciva a definire la sensazione che provava. Sicuramente non aveva mai incontrato una donna capace di suscitare la sua curiosità come quella, che restava calma, non sorrideva, non si sforzava minimamente di sembrare carina e di tanto in tanto si portava il fazzoletto al naso. Doveva avere fra i 25 e i 30 anni. Era molto più alta della media. Aveva una corporatura solida e un viso ossuto, del tutto privo di grazia. Indossava vestiti da piccolo borghese, di una sobrietà estrema, e aveva un modo di fare tranquillo, quasi distinto. Lo trattava come si tratta un ospite. Era a casa sua e pensava lei a tutto. «Non ho nessun bisogno di fare il bagno». «Allora vuole venire subito da noi?» «Dia la valigia al cameriere». «Cameriere, porti questa valigia al numero 3. Il signore tornerà tra poco». Maigret la osservava con la coda dell'occhio e intanto pensava «Sto facendo la figura dell'imbecille». Eppure non aveva proprio niente del ragazzino. Lei era tutt'altro che mingerlina, ma lui era due volte più grosso e il cappotto pesante lo faceva sembrare ancor più monumentale. «Non è troppo stanco?» «Non sono affatto stanco. Allora, intanto che camminiamo, posso cominciare a darle le prime indicazioni». Ma gliele aveva già date a Parigi, le prime indicazioni. Un bel giorno, arrivando in ufficio, aveva trovato quella sconosciuta che l'aspettava da due o tre ore senza lasciarsi scoraggiare dal piantone. «Si tratta di una questione privata», aveva affermato quando il commissario l'aveva interrogata alla presenza di due ispettori. E una volta a quattro occhi, gli aveva mostrato una lettera. Maigret aveva riconosciuto la scrittura di un cugino di sua moglie che abitava a Nancy. «Caro Maigret, la signorina Anna Peters mi è stata raccomandata da mio cognato, che la conosce già da una decina d'anni. È una ragazza molto seria e ti racconterà lei stessa i suoi guai. Cerca di fare per lei tutto quello che puoi. Lei abita a Nancy?» «No, a Givet». «Questa lettera, però...» «Sono andata appositamente a Nancy prima di venire a Parigi. Sapevo che mio cugino conosceva qualcuno di importante nella polizia». Non era una delle solite scocciatrici. Non abbassava mai lo sguardo e il suo contegno era privo di umiltà. Parlava in tono deciso, guardando dritto davanti a sé con l'aria di chi pretende quello che gli è dovuto. «Se lei non accetta di occuparsi di noi, io e i miei siamo perduti e sarà un errore giudiziario terribile». Maigret aveva preso alcune annotazioni che riassumevano il suo racconto. Una storia di famiglia decisamente ingarbugliata. I Peters avevano una drogheria alla frontiera belga. Tre figli. Anna, che li aiutava in negozio. Maria, che faceva l'insegnante. E Joseph, studente di legge a Nancy. Joseph aveva avuto un bambino da una ragazza del paese. Il bambino aveva tre anni. Ma la ragazza era sparita all'improvviso e i Peters erano accusati di averla uccisa o forse sequestrata. Non era compito di Maigret occuparsi di quella faccenda. Su di essa stava già indagando un suo collega di Nancy, al quale aveva telegrafato, ricevendone una risposta categorica. Peters sicuramente colpevoli. Stop. Arresto imminente. Questo l'aveva indotto a partire per Givet di sua iniziativa senza alcun incarico ufficiale e dal momento in cui era arrivato alla stazione si era trovato sotto la tutela di quella Anna che non si stancava di osservare. Le acque impetuose del fiume formavano cascate rumoreggianti in corrispondenza di ogni pilone del ponte e trascinavano interi alberi. Il vento che soffiava impetuoso nella valle della Mosa investiva il fiume controcorrente sollevando l'acqua ad altezze inaspettate così da formare delle vere e proprie onde. Erano le tre del pomeriggio e cominciava già a far buio. Le strade quasi deserte erano spazzate dal vento, i rari passanti camminavano in fretta e Anna non era l'unica a soffiarsi il naso. Guardi quella viuzza a sinistra. La ragazza si era fermata per un istante indicando discretamente con un gesto appena percettibile la seconda casa del vicolo una casa misera a un solo piano. Una finestra era già illuminata dalla luce di una lampada a petrolio. È lì che abita. Chi? Lei, Viermaine Pierrebeuf la ragazza che... quella che suo fratello ha messo incinta? Ammesso che sia stato lui non è neppure certo. Guardi. Si vedeva una coppia sulla soglia di una casa. Una ragazza senza cappello, probabilmente un operaia, e di schiena un uomo che la stava abbracciando. È lei? No, visto che lei è sparita. Ma è della stessa razza, capisce? È riuscita a far credere a mio fratello? Il bambino non gli assomiglia? E lei, asciutta. Assomiglia alla madre. Venga, sono sempre appostati dietro le tende, quelli. Ha dei parenti? Il padre che fa il guardiano notturno alla fabbrica e il fratello Gerard. La casupola e soprattutto la finestra illuminata dalla lampada a petrolio si erano già impresse nella memoria del commissario. Non è mai stato a Givet? Ci sono passato solo una volta senza fermarmi. Una banchina interminabile, larghissima, con una bit da ormeggio per le chiatte ogni venti metri. Qualche magazzino. Una costruzione bassa sormontata da una bandiera. È la dogana francese. La nostra casa è più avanti, vicino alla dogana belga. Lo sciabordio era così violento che le chiatte sbattevano l'una contro l'altra. Alcuni cavalli in libertà, brucavano l'erba rada. Vede quella luce? È casa nostra. Un doganiere li guardò passare senza dir nulla. In un gruppo di batteglieri, alcuni si misero a parlare fiammingo. Che cosa dicono? Anna esitò a rispondere, volgendo per la prima volta il capo dall'altra parte. Che la verità non verrà mai a galla. E affrettò il passo, camminando curva per offrire minor resistenza al vento. Ormai erano fuori dall'abitato. Quello dove si trovavano era il regno esclusivo del fiume, delle imbarcazioni, della dogana, dei noleggiatori. Qua e là, una lampada elettrica accesa in pieno vento. Panni stesi che sbattevano sopra una chiatta. Bambini che giocavano nel fango. Il suo collega è tornato da noi ieri a dirci da parte del giudice e istruttore che dobbiamo rimanere a disposizione della giustizia. È la quarta volta che perquisiscono dappertutto, perfino la cisterna. Erano quasi arrivati e si cominciava a distinguere chiaramente la casa dei fiamminghi. Era una costruzione piuttosto grande, sulla riva del fiume, nel punto in cui le imbarcazioni erano più numerose. La casa era isolata e l'unico edificio nei dintorni era la sede della dogana belga, distante un centinaio di metri e fiancheggiata da un palo tricolore. Se vuole accomodarsi? Sui vetri della porta c'erano alcune reclam trasparenti di prodotti per lucidare il rame. Tintinò un campanello. Fin dalla soglia ci si sentiva avvolgere dal tepore, da un'atmosfera indefinibile, quieta e sciropposa, dominata dagli odori. Ma quali odori? Una punta di cannella, una nota più intensa di caffè macinato e anche un vago sentore di petrolio, mischiato però a zaffate di acquavite. Una lampadina elettrica, una sola. Dietro al banco di legno verniciato di marrone scuro, una donna con i capelli bianchi e un corpetto nero parlava in fiammingo con la moglie di un batteliere che teneva un bambino in braccio. Da questa parte, signor commissario. Maigre aveva avuto il tempo di vedere gli scaffali zeppi di merci e in particolare aveva notato all'estremità del banco una superficie rivestita di zinco e delle bottiglie col beccuccio di stagno che contenevano acquavite. Ma non ebbe il tempo di fermarsi perché Anna aprì un'altra porta a vetri schermata da una tenda. Attraversarono la cucina dove in una poltrona di vimini accanto alla stufa sedeva un vecchio. Per di qua. Un corridoio più freddo, un'altra porta ed ecco un locale inatteso, una via di mezzo fra un salotto e una sala da pranzo con un pianoforte, una custodia di violino, un parquet accuratamente tirato a cera, mobili di buona qualità e alle pareti alcune riproduzioni di quadri. Mi dia il cappotto. La tavola era apparecchiata. Una tovaglia a quadretti, posate d'argento, tazze di porcellana fine. Prende qualcosa, vero? Il cappotto di Maigre fu appeso nel corridoio e Anna tornò senza la giacca, con una camicetta di seta bianca che la invecchiava ancora di più. Era piuttosto formosa, ma stranamente del tutto priva di femminilità. Impossibile immaginarla innamorata e anche più impossibile immaginare un uomo innamorato di lei. Tutto doveva essere stato preparato in anticipo. Anna portò una caffettiera fumante, riempì tre tazze, scomparve un'altra volta e ritornò con una torta di riso. «Si sieda, signor commissario, mia madre viene subito. È lei che suona il piano? Io e mia sorella, ma lei ha meno tempo di me, di sera ha i compiti da correggere. E il violino? Mio fratello. Non è a Givet? Sarà qui fra poco, l'ho avvisato del suo arrivo». Tagliò la torta e servì l'ospite senza neanche chiedergli se ne volesse. Entrò la signora Peters, con le mani intrecciate sul grembo, abbozzando un timido sorriso di benvenuto, un sorriso pieno di malinconia e di rassegnazione. «Anna mi ha detto che è stato così gentile, Dan. Era più fiamminga della figlia e parlava con un leggero accento straniero. Eppure aveva dei lineamenti molto fini e i capelli, di un candore sorprendente, le conferivano una certa aria di nobiltà. Sedette sul bordo della sedia, da donna abituata ad alzarsi in continuazione. «Deve aver fame dopo un viaggio simile. Io invece ho perso l'appetito da quando…» Maigret pensava al vecchio che era rimasto in cucina. «Perché non veniva anche lui a mangiare un po' di torta?» Proprio in quel momento la signora Peters disse alla figlia «Portane una fetta a tuo padre». Poi, rivolgendosi a Maigret, ormai non si alza quasi più dalla poltrona. È già tanto se capisce qualcosa. Era un'atmosfera tutt'altro che drammatica. Sembrava quasi che nulla di quanto succedeva all'esterno avrebbe potuto turbare la quiete della casa dei Fiamminghi, dove non c'era un granello di polvere, non uno spiffero, non un rumore tranne il crepitio della stufa. Mentre mangiava la sua spessa e compatta porzione di torta, Maigret cominciò a far domande. Che giorno era esattamente? Il 3 gennaio, un mercoledì. Oggi è il 20. Sì, non siamo stati accusati subito. E quella ragazza, com'è che si chiama? Germaine Piedeboeuf. È venuta verso le 8 di sera, è entrata nel negozio e ha parlato con mia madre. Che cosa voleva? La signora Peters fece il gesto di asciugarsi una lacrima. Come al solito, veniva a lamentarsi che Joseph non andava a trovarla, non le dava sue notizie. Un ragazzo che studia tanto, è proprio bravo, le assicuro, a continuare gli studi malgrado tutto. Si è fermata molto? Cinque minuti, forse. Ho dovuto dirle di non gridare, i battelieri avrebbero potuto sentire. Poi è arrivata Anna e le ha detto che avrebbe fatto meglio ad andarsene. E se n'è andata? Anna l'ha accompagnata fuori, io sono tornata in cucina e ho sparecchiato la tavola. E da allora non l'avete più rivista? Mai più. Nessuno in paese l'ha incontrata? Dicono tutti di no. Non aveva minacciato di suicidarsi? No, quelle donne lì non si uccidono. Ancora un po' di caffè? Un pezzo di torta? L'ha fatta Anna. Un altro elemento che contribuiva a delineare l'immagine della ragazza. Se ne stava placida sulla sua sedia e osservava il commissario come se i ruoli si fossero invertiti, come se lei fosse stata una del che desorfevre e lui un membro della famiglia dei fiamminghi. Ricordate che cosa avete fatto quella sera? Fu Anna a rispondere con un sorriso triste. Ce l'hanno chiesto tante di quelle volte che abbiamo dovuto rammentare per forza anche i minimi dettagli. Rientrando, io sono salita in camera mia a prendere della lana per lavorare a maglia. Quando sono scesa, in questa stanza c'erano mia sorella seduta al piano e Marguerite che era appena arrivata. Marguerite? Nostra cugina, la figlia del dottor Van de Vert, abitano a Givet. Tanto vale dirle subito, visto che la informeranno comunque, che è la fidanzata di Joseph. La signora Peter si alzò sospirando perché aveva sentito il campanello del negozio. La udirono parlare fiammingo con voce quasi allegra mentre pesava dei fagioli o dei piselli. È il grande dispiacere di mia madre. Era stato deciso da tempo immemorabile che Joseph e Marguerite si sarebbero sposati. A 16 anni erano già fidanzati, ma Joseph doveva terminare gli studi. È stato allora che è arrivato quel bambino. E pensavano di sposarsi lo stesso? No, però Marguerite non voleva sposare nessun altro. Continuavano a volersi bene. Germaine Piedboeuf lo sapeva? Sì, ma voleva farsi sposare a tutti i costi lei, tanto che mio fratello per essere lasciato in pace le aveva promesso il matrimonio doveva essere celebrato dopo gli esami. Il campanello del negozio suonò un'altra volta e la signora Peter si attraversò in fretta la cucina. Le stavo chiedendo come avete trascorso la serata del tre. Sì, dunque, come dicevo, quando sono scesa mia sorella e Marguerite erano in questa stanza. Abbiamo suonato il piano fino alle dieci e mezzo. Mio padre era andato a letto alle nove come al solito. Io e mia sorella abbiamo accompagnato Marguerite fino al ponte. E non avete incontrato nessuno? Nessuno. Faceva freddo. Siamo rientrate. Il giorno dopo non sospettavamo nulla. Nel pomeriggio qualcuno ha cominciato a parlare della sparizione di Germaine Piedboeuf, ma soltanto due giorni dopo sono arrivati ad accusarci perché qualcuno l'aveva vista entrare qui. Siamo stati convocati dal commissario di polizia, poi dal suo collega di Nancy. Pare che il signor Piedboeuf abbia asporto denuncia. Hanno perquisito la casa, la cantina, le rimesse, tutto. Hanno perfino rivoltato la terra del giardino. Suo fratello non era a Givet il tre? No, lui viene solo il sabato con la moto. È raro che venga un altro giorno della settimana. Abbiamo contro tutta la città perché siamo fiamminghi e abbiamo un po' di soldi. Una sfumatura di orgoglio nella voce o piuttosto un eccesso di sicurezza. Non puoi immaginare che cosa non sono riusciti a inventarsi. Di nuovo il campanello del negozio, poi una voce giovane. Sono io, non disturbatevi. Si udirono dei passi veloci e una vezzosa figuretta femminile entrò di slancio nella sala da pranzo ma si arrestò bruscamente vedendo Maigret. Oh, scusate, non sapevo. Il commissario Maigret che è venuto per aiutarci, mia cugina Margherite. Una manina guantata nella manona di Maigret e un sorriso intimidito. Anna mi ha detto che lei accettava. Era molto fine, più fine che bella, con il viso incorniciato da capelli biondi a onde fitte fitte. Lei suona il pianoforte a quanto pare. Sì, la musica è tutto per me, specialmente quando sono triste. E il suo sorriso faceva pensare a quello delle belle ragazze riprodotte sul calendario maggio, labbra un po' imbronciate, sguardo velato, viso leggermente inclinato. Maria non è tornata? No, si vede che il treno è di nuovo in ritardo. La sedia troppo fragile scricchiolò quando Maigret volle accavallare le gambe. A che ora è arrivata il 3 di gennaio. Alle otto e mezzo, forse un po' prima, noi ceniamo presto, mio padre aspettava degli amici per il bridge. Il tempo era come quello di oggi? Pioveva, ha piovuto per una settimana intera. La mosa era già in piena? Stava cominciando, ma le chiuse sono state travolte solo i cinque o i sei. C'erano ancora convogli di imbarcazioni che circolavano. Una fetta di torta, signor commissario? No? Un sigaro, allora? Anna porse una scatola di sigari belgi e mormorò come per scusarsi. Non sono di contrabbando. Casa nostra è per metà in Belgio e per metà in Francia. Insomma, suo fratello almeno è del tutto fuori questione dato che si trovava a Nancy. E Anna con un'espressione ostinata. No, neanche lui. Per colpa di un ubriacone che sostiene di aver visto la sua moto passare sul lungo fiume. L'ha raccontato 15 giorni dopo come se potesse ricordarsene. È un tiro di Gerard, il fratello di Germain Piedeboeuf. Non ha un accidente da fare quindi passa il tempo a cercare testimoni. Pensi che vogliono costituirsi parte civile e chiedere 300.000 franchi. E il bambino dov'è? Si sentì la signora Peter scorrere in negozio dove aveva suonato il campanello. Anna ripose la torta nella credenza e mise la caffettiera sulla stufa. A casa loro! E al di là del tramezzo si udì un batteliere che ordinava a gran voce dell'acquavite. Capitolo secondo L'Etoile Polaire Marguerite Van de Vert frugava affannosamente nella borsetta alla ricerca di qualcosa che desiderava mostrare. Non hai ancora ricevuto l'Eco de Givet? Con un leggero sorriso sulle labbra porse un ritaglio di giornale ad Anna che lo passò a Megret. Chi ti ha dato quest'idea? Mi è venuta in mente ieri per caso? Era solo un'inserzione. Si prega il motociclista che la sera del 3 gennaio è transitato per la strada che costeggia la Mosa di mettersi in contatto con la drogheria Peters l'auta ricompensa. Non ho osato dare il mio indirizzo ma a Megret parve che Anna guardasse la cugina con una punta di fastidio mentre mormorava è un'idea ma non si farà vivo nessuno e pensare che Marguerite si aspettava con tanta trepidazione di ricevere dei complimenti. Perché no? Se è passato qualcuno con la moto visto che non era Joseph non c'è ragione. Le porte erano aperte e dalla cucina giungeva il borbottio dell'acqua che cominciava a bollire. La signora Peters stava apparecchiando la tavola per la cena quando dall'ingresso del negozio giunse il suono di una voce e subito le due ragazze tesero le orecchie. Prego si accomodi non ho niente da dirle ma Joseph balbettò Margherita alzandosi. Nel tono con cui pronunciò quel nome c'era più che amore una sorta di adorazione era come trasfigurata non osava rimettersi a sedere e aspettava col fiato sospeso tanto da far pensare che stesse per comparire una specie di super uomo. Poi la stessa voce risuonò nella cucina buongiorno mamma e un'altra voce che Megre non riconobbe disse lei mi scuserà signora ma devo fare alcune verifiche e ho approfittato del passaggio che mi ha dato suo figlio. Alla fine i due uomini si affacciarono alla porta della sala da pranzo e Joseph aggrottando impercettibilmente le sopracciglia mormorò con una dolcezza quasi imbarazzante ciao Marguerite lei gli prese la mano e la strinse fra le sue sei stanco Joseph come va l'umore Anna invece più controllata si rivolse all'uomo che era entrato insieme a lui indicandogli Megre il commissario Megre che lei sicuramente conosce ispettore Mascher disse il nuovo arrivato tendendo la mano allora è vero che lei ma non si poteva continuare a parlare in quel modo tutti in piedi fra la porta e la tavola ancora apparecchiata sono qui a titolo esclusivamente personale borbottò Megre la prego di fare come se non ci fossi si sentì toccare il braccio mio fratello Joseph il commissario Megre Joseph tese una mano lunga fredda e ossuta era alto mezza spanna più di Megre che pure arrivava al metro e ottanta ma era talmente sottile da dare l'impressione che nonostante i suoi venticinque anni non avesse ancora finito di crescere aveva il naso affilato gli occhi stanchi e molto cerchiati i capelli biondi tagliati corti doveva vederci poco perché continuava a sbattere le palpebre come per ripararsi dalla luce della lampada molto lieto signor commissario mi deve scusare non era nemmeno elegante si tolse l'impermeabile unto e bisunto e comparve in un completo grigiastro di taglio ordinario l'ho incontrato vicino al ponte disse l'ispettore Mascher e gli ho chiesto di portarmi fin qui sulla moto dopodiché si rivolse ad Anna e da quel momento parlò esclusivamente con lei come se fosse stata la vera padrona di casa non si fecero vedere né la signora Peters né il marito rannicchiato nella sua poltrona di vimini in cucina immagino che non sia difficile salire sul tetto tutti si guardarono in faccia si sale attraverso il lucernario della soffitta rispose Anna se vuole si vorrei dare un'occhiata là sopra per me Gre fu l'occasione di vedere la casa la scala verniciata era ricoperta di un linoleum lucidato con tanta cura che bisognava stare attenti a non scivolare al primo piano c'era un pianerottolo su cui si aprivano le porte di tre camere Giuseppe e Marguerite erano rimasti da basso Anna faceva strada e il commissario notò che ancheggiava leggermente devo parlarle mi svegliò l'ispettore dopo raggiunsero il secondo piano da una parte c'era una mansarda adibita a camera da letto ma non utilizzata dall'altra una soffitta immensa con le travi a vista dove erano ammucchiati sacchi e casse di merci per raggiungere il lucernario l'ispettore dovette arrampicarsi su due casse non ha una luce ho la mia torcia elettrica era un uomo giovane con la faccia da luna piena cordiale e dinamico Maigret non si arrampicò sul tetto ma rimase a guardare attraverso il finestrino il vento soffiava a raffiche si sentiva il rumore del fiume e se ne scorgeva nella notte la superficie burrascosa punteggiata dai riflessi di alcuni lampioni a sinistra sul cornicione c'era un serbatoio di zinco di almeno due metri cubi di capacità verso il quale il poliziotto si diresse senza alcuna esitazione serviva probabilmente a raccogliere l'acqua piovana ma Cher si sporse a guardarci dentro parve deluso andò ancora avanti e indietro sul tetto per qualche minuto poi si chinò a raccogliere qualcosa Anna aspettò senza dire nulla nell'oscurità dietro a Maigret finché non ricomparvero prima le gambe poi il busto e infine il volto dell'ispettore un nascondiglio al quale ho pensato solo oggi pomeriggio quando ho constatato che quelli del mio albergo bevono solo acqua piovana ma il cadavere non c'è cos'è che ha raccolto? un fazzoletto un fazzoletto da donna lo spiegò lo illuminò con la torcia cercando in vano un iniziale il fazzoletto sudicio era rimasto a lungo esposto alle intemperie a questo penseremo dopo sospirò l'ispettore dirigendosi verso la porta quando tornarono nella calda atmosfera della sala da pranzo trovarono Joseph seduto sullo sgabello del pianoforte intento a leggere l'inserzione che Marguerite gli aveva appena mostrato la ragazza era in piedi davanti a lui e con il suo cappello a larghe falde e il cappotto ornato di piccole balze aveva un'aria più vaporosa che mai le spiace venire a trovarmi stasera in albergo disse Magrè al giovane che albergo è? l'hotel della Meuse intervenne Anna ci lascia già signor commissario avrei voluto trattenerla per cena ma Magrè attraversò la cucina la signora Peters lo guardò stupita sta andando via? il vecchio fumava una pipa di schiuma con lo sguardo perso nel vuoto senza pensare a nulla non salutò nemmeno fuori vennero investiti dal vento e dal fragore della mosa in piena e delle imbarcazioni che cozzavano l'una contro l'altra l'ispettore Machère quando si accorse che stava camminando alla destra di Magrè si affrettò a passare dall'altra parte crede che siano innocenti? non lo so ha del tabacco? solo tabacco scuro sa che si parla molto di lei Anansi? ed è quello che mi preoccupa perché questi Peters Magrè si era fermato davanti ai battelli e il suo sguardo errava dall'uno all'altro grazie alla piena che aveva bloccato la navigazione Givet sembrava un grande porto c'erano diverse chiatte del reno intorno alle mille tonnellate di stazza tutte in acciaio scuro in confronto le barche di legno che venivano dal nord parevano giocattoli verniciati bisognerà che mi compri un berretto borbottò il commissario che era costretto a tenersi la bombetta con la mano cosa le hanno detto di preciso che sono innocenti naturalmente dovevano parlare molto forte per sovrastare il rumore del vento Givet a 500 metri di distanza non era che una manciata di luci la casa dei fiamminghi si stagliava contro il cielo tempestoso mostrando alcune finestre illuminate da una luce calda e soffusa di dove sono? del nord del belgio il padre è nato giusto sopra il Limburgo al confine con l'Olanda a vent'anni più della moglie quindi ormai deve averne un'ottantina faceva il cestaio fino a qualche anno fa lavorava ancora con quattro operai nel laboratorio che c'è dietro la casa adesso è completamente rimbambito sono ricchi? così dice la gente la casa è loro hanno anche prestato dei soldi a certi battiglieri poveri che volevano comprare una chiatta vede commissario non hanno la nostra mentalità la vecchia Peters ha centinaia di migliaia di franchi ma questo non le impedisce di servire il cicchetto ai clienti come dicono loro il figlio però studia da avvocato la figlia maggiore ha imparato a suonare il piano e l'altra insegna in un famoso collegio di Namur è qualcosa di più di un'istitutrice una specie di professoressa di liceo Emacher aggiunse indicando le chiatte metà di quelli che vivono là dentro sono fiamminghi gente attaccata alle proprie abitudini gli altri vanno nei bistro francesi vicino al ponte a bere vino e aperitivi i fiamminghi vogliono la loro acquavite qualcuno che capisca la loro lingua e così via ogni imbarcazione fa provviste per una settimana e anche di più per non parlare del contrabbando i Peters da questo punto di vista sono in una posizione ideale avevano il cappotto incollato al corpo lo sciabordio era così forte che gli spruzzi d'acqua arrivavano sul ponte delle chiatte cariche loro non vedono le cose come noi non lo considerano un bistro è una drogheria anche se al banco servono da bere e perfino le donne si bevono un bicchierino mentre fanno la spesa a quanto pare è la cosa che rende di più e i pied boeuf chiese Maigret gente modesta il padre fa il guardiano in una fabbrica la figlia aveva un posto di dattilografa nella stessa ditta e anche il figlio lavora lì un tipo per bene? non direi è uno sfaticato preferisce giocare a biliardo al caffè della Marine è un bel ragazzo e sa di esserlo e la figlia? Germain aveva qualche corteggiatore sa commissario una di quelle ragazze che alla sera si vedono negli angolini bui insieme a un uomo ciò non toglie che il bambino sia di Joseph Peters io l'ho visto gli assomiglia è innegabile comunque che il 3 gennaio lei sia andata a casa loro poco dopo le 8 di sera e da allora nessuno l'ha più vista l'ispettore Mascher parlava fuori dai denti ho controllato dappertutto ho anche fatto una rilevazione dettagliata dei posti con l'aiuto di un architetto c'era solo una cosa che avevo dimenticato il tetto di solito uno non pensa che si possa nascondere un cadavere su un tetto ma quando poco fa ci sono andato ho trovato un fazzoletto e nient'altro e la mosa? appunto stavo per arrivarci lei sa naturalmente che gli annegati li trovano quasi sempre alle chiuse da qui a Namur ce ne sono 8 due giorni dopo il delitto però il fiume si è talmente ingrossato che le chiuse hanno ceduto come succede ogni inverno quindi Germaine Pierre Boeuf può benissimo essere arrivata in Olanda o addirittura fino al mare mi hanno detto che Joseph Peters non era qui la sera in cui così dice lui lo so un testimone ha visto una moto simile alla sua lui giura che si tratta di un altro non ha un alibi? ce l'ha e non ce l'ha sono tornato a Nancy apposta abita in una camera ammobiliata dove può andare e venire senza che la padrona di casa lo veda inoltre frequenta abitualmente i caffè e i bar dove gli studenti si ritrovano tutte le sere e nessuno si ricorda con esattezza se è stato il 3 il 4 o il 5 che lui ha passato tutta la notte in uno di questi bar può essere che Germaine Pierre Boeuf si sia suicidata? non era il tipo una ragazzetta di poca salute e di scarsa moralità ma che adorava suo figlio può darsi che sia rimasta vittima di un'aggressione d'altro genere stavolta ma cert'acque e lasciò pagare lo sguardo sui battelli che formavano una specie di isolotto a qualche metro dalla riva ci ho pensato ho fatto indagini su ogni battelliere per la maggior parte sono persone perbene che vivono a bordo con la famiglia e i figli solo l'etual poler mi ha dato da pensare l'ultima chiatta a monte la più sporca quella che sembra sul punto di affondare di chi è? di un belga uno di Thier vicino a Liegi un tipaccio che è stato denunciato due volte per oltraggio al pudore la barca è tenuta malissimo e le compagnie si rifiutano di assicurarla ci sono state un sacco di storie di donne e di ragazzine ma perché lei vuole? i due uomini ripresero a camminare in direzione del ponte e a mano a mano che si avvicinavano entravano nel raggio di luce dei lampioni che illuminavano l'abitato videro sulla destra alcuni bistro dei bistro francesi dove imperversavano le pianole lo sto facendo sorvegliare ciò non toglie che la testimonianza a proposito della moto a che albergo sta lei? all'hotel de la gare maigre gli tese la mano ci vediamo caro ispettore ben inteso è lei che porta avanti l'inchiesta io sono qui solo per curiosità cosa vuole che faccia se non si trova il corpo non c'è nessuna prova e se l'hanno buttato in acqua non lo troveremo mai maigre gli strinse distrattamente la mano e appena raggiunsero il ponte entrò nell'hotel de la Meuse mentre cenava maigre aveva scritto sul tacquino opinioni sui Peters ma Cher non si considerano certo dei bottegai l'albergatore sono persone che si danno aria da borghesi io non mi sognerei mai di far studiare mio figlio da avvocato un batteliere tutti uguali questi fiamminghi un altro si danno ma forte come i massoni e faceva uno strano effetto guardare da Givet ossia dal ponte che ne costituiva il centro in direzione della casa dei fiamminghi qui uno era in una cittadina francese con le sue viuzze e i suoi caffè pieni di fanatici del biliardo o del domino dove aleggiava l'odore del perno e tutti si conoscevano fra loro poco più in là oltre quel tratto di fiume c'era l'edificio della dogana e in fondo a tutto al margine della campagna la casa dei fiamminghi la drogheria piena zeppa di merci il piccolo banco di zinco per chi beveva acquavite la cucina con il vecchio rimbambito nella sua poltrona di vimini incollata alla stufa la sala da pranzo con il pianoforte il violino le sedie di buona fattura la torta fatta in casa Anna e Margherite la tovaglia a quadretti e quel Joseph lungo magro e malaticcio che arrivava sulla moto accolto da un'atmosfera di ammirazione generale l'hotel de la Meuse era frequentato da rappresentanti di commercio che il proprietario conosceva uno per uno e che avevano ognuno il proprio tovagliolo Joseph Peters ci entrò come un forestiero timidamente verso le nove andò dritto verso il commissario e balbettò ci sono novità ma poiché li guardavano tutti Magre preferì andare con il giovane nella propria stanza di che si tratta? è al corrente dell'inserzione si è fatto vivo un motociclista uno di Dinand che lavora in un garage quella sera è passato davanti a casa nostra verso le otto e mezzo la valigia di Maigret era ancora chiusa il commissario sedette sul bordo del letto lasciando al visitatore l'unica poltrona è veramente innamorato di Marguerite? sì cioè cioè? è mia cugina volevo che diventasse mia moglie era una cosa decisa da tanto tempo ciò nonostante ha fatto un figlio con Germain Pietbeuf un attimo di silenzio poi Joseph mormorò in tono sommesso sì era innamorato di lei? non lo so aveva intenzione di sposarla? non lo so Maigret vedeva in piena luce il viso magro gli occhi stanchi e l'espressione abbattuta di Joseph Peters che non aveva il coraggio di guardarlo in faccia com'è successo? ci vedevamo io e Germain e Marguerite? no era una cosa diversa e poi? mi ha detto che aspettavo un bambino io non sapevo più è sua madre che mia madre e le mie sorelle mi hanno convinto che non ero stato il primo che Germain aveva avuto delle avventure? la finestra dava sul fiume nel punto esatto in cui l'acqua si frangeva contro i piloni del ponte con un rumore assordante e continuo è innamorato di Marguerite? il giovane si alzò in piedi turbato a disagio cosa intende dire? è innamorato di Marguerite o di Germain? io ecco aveva la fronte imperlata di sudore come faccio a saperlo? mia madre aveva già fissato per me uno studio di avvocato a Reims per lei e per Marguerite non so ho conosciuto l'altra in una balera Germain? in una balera che mi era stato proibito di frequentare l'ho accompagnata a casa e lungo la strada e Marguerite? non è la stessa cosa io? è rimasto a Nancy la notte fra il 3 e il 4? Maigret ne sapeva già abbastanza andò verso la porta si era fatto un'idea precisa del suo uomo uno spilungone ossuto ma debole di carattere con un amor proprio alimentato dall'ammirazione delle sorelle e della cugina che cosa ha fatto da quel giorno in poi? sto preparando un esame è l'ultimo Anna mi ha telegrafato di venire a parlare con lei pensa di no non ho più bisogno di lei torni pure a Nancy una figura che Maigret non avrebbe certo dimenticato i grandi occhi chiari cerchiati di rosso per l'inquietudine la giacca troppo larga i pantaloni con le ginocchia sformate vestito alla stessa maniera con in più solo un impermeabile Joseph Peters sarebbe tornato con la moto a Nancy badando bene a non superare i limiti di velocità una cameretta da studente presso una qualche vecchia signora bisognosa le lezioni sicuramente non ne saltava mai una il caffè a mezzogiorno alla sera il biliardo se avrò bisogno di lei glielo farò sapere e Maigret rimasto solo si appoggiò con i gomiti al davanzare della finestra si lasciò investire dal vento della valle guardò il fiume che scorreva impetuoso verso la pianura e scorse in lontananza una lucina fioca la casa dei fiamminghi nell'ombra un ammasso confuso di imbarcazioni di alberi di fumaioli di chiatte dalle prue tondeggianti davanti a tutte le toal polaire uscì caricando la pipa e tirandosi su il bavero di velluto del cappotto il vento era talmente forte che Maigret nonostante la sua mole fu costretto a curvarsi per riuscire ad avanzare capitolo terzo la levatrice Maigret come al solito alle otto era già in piedi con le mani nelle tasche del cappotto e la pipa fra i denti rimase per un po' immobile davanti al ponte ora guardando il fiume in piena ora lasciando vagare lo sguardo sui passanti il vento soffiava con la stessa violenza del giorno prima e faceva molto più freddo che a Parigi ma da che cosa si capiva che quello era un luogo di frontiera dalle case coi mattoni a vista di un brutto marrone scuro che erano già tipicamente belghe con la soglia di pietra e le finestre ad orne di vasi di rame dai lineamenti dei valloni più duri più marcati dalle uniformi color cacchi dei doganieri belgi o forse dal fatto che nei negozi veniva accettata la valuta di entrambi i paesi in ogni caso l'atmosfera era inconfondibile ci si trovava in una zona di confine dove vivevano fianco a fianco due etnie diverse Megre lo avvertì con la massima chiarezza quando entrò in un bistro del lungo fiume per bere un grog era un bistro francese con una vasta gamma di aperitivi multicolori gli specchi appesi alle pareti chiare e alcuni clienti che bevevano al banco il primo bianchino della giornata erano una decina di battelieri raccolti attorno ai proprietari di due rimorchiatori e stavano discutendo della possibilità di discendere il fiume nonostante la piena impossibile passare sotto il ponte di Dinan e anche a riuscirvi bisognerebbe chiedere 15 franchi francesi la tonnellata è troppo caro a quel prezzo è meglio aspettare e intanto guardavano Megre uno di loro diede di gomito a un compagno il commissario era stato riconosciuto c'è un fiammingo che dice di voler partire domani a motore spento lasciandosi trasportare dalla corrente i fiamminghi nel caffè non ce n'erano loro preferivano il negozio dei Peters tutto in legno scuro con il suo odore di caffè di cicoria di cannella e di acquavite dove restavano per ore e ore con i gomiti appoggiati al bancone a parlare del più e del meno e a guardare coi loro occhi chiari le reclam trasparenti della porta ascoltando quello che si diceva attorno a lui Megre venne a sapere che i batteliari fiamminghi non erano ben visti non tanto per il loro carattere quanto per il fatto che con le loro imbarcazioni munite di motori potenti e tenute lustre come batterie da cucina facevano concorrenza ai francesi accettando di trasportare carichi a prezzi stracciati e adesso si mettono anche ad ammazzare le ragazze parlavano per Megre sbirciandolo con la coda dell'occhio vorrei sapere che cosa aspetta la polizia ad arrestare i Peters forse hanno troppi soldi e allora ci pensano due volte Megre uscì dal bistro e vagò ancora per qualche minuto sul lungo fiume a guardare l'acqua torbida che trascinava rami d'albero nella viuzza di sinistra scorse la casa che Anna gli aveva indicato la luce quel mattino era livida e il cielo di un grigio uniforme i passanti infreddoliti non si attardavano per strada il commissario si avvicinò all'ingresso della casa e tirò il cordone del campanello erano appena passate le otto e un quarto la donna che aprì la porta stava evidentemente facendo le pulizie poiché si asciugava le mani nel grembiule bagnato chi cerca in fondo al corridoio si intravedeva una cucina e nel mezzo un secchio e una spazzola c'è il signor Piedbeuf la donna lo squadrò dalla testa ai piedi con diffidenza il padre o il figlio il padre lei è della polizia vero allora dovrebbe sapere che a quest'ora dorme dato che fa il guardiano notturno e non rincasa mai prima delle sette del mattino però se vuole salire non importa e il figlio è uscito dieci minuti fa per andare in ufficio dalla cucina giunse il rumore di un cucchiaio che cadeva per terra maigre scorse la testa di un bambino non è per caso cominciò a dire sì è il figlio della povera signorina Germaine comunque o dentro o fuori mi fa raffreddare tutta la casa il commissario entrò il corridoio aveva le pareti dipinte a finto marmo la cucina era in disordine e la donna borbottò qualcosa di incomprensibile mentre raccoglieva il secchio e la spazzola davanti al tavolo ingombro di tazze e di piatti sporchi era seduto tutto solo un bambinetto di tre anni che mangiava un uovo alla coke maldestramente impiastricciandosi di giallo la donna doveva avere una quarantina d'anni era magrissima con un viso ascetico è affidato a lei? sì da quando hanno ammazzato sua madre sono io che me ne occupo per la maggior parte del tempo il nonno deve per forza dormire metà della giornata e in casa non c'è nessun altro quando devo andare da una cliente bisogna che lo affidi a una vicina cliente? sono ostetrica diplomata si era tolta il grembiule a quadretti come se quell'indumento sminuisse la sua dignità non aver paura Jojo disse al bimbo che fissava il visitatore e aveva smesso di mangiare assomigliava a Joseph Peters difficile dirlo in ogni caso era un bambino gracile aveva lineamenti irregolari la testa troppo grossa il collo magro e soprattutto una bocca larga e sottile che pareva quella di un ragazzino di almeno dieci anni non staccava gli occhi da maigret ma il suo sguardo era privo di espressione e tale rimase anche quando la levatrice sentì il bisogno di abbracciarlo in maniera forse un po' melodrammatica esclamando povero coccolino mangia il tuo ovetto tesoro bello non aveva detto a maigre di accomodarsi il pavimento era tutto bagnato e sul fornello stava cuocendo una minestra è lei quello che hanno fatto venire da Parigi vero? parlava con un tono che non si poteva definire aggressivo ma che certo era tutt'altro che gentile cosa intende dire? è inutile fare misteri qui in paese si viene a sapere tutto si spieghi? lo sa meglio di me proprio un bel incarico quello che ha accettato la polizia del resto è sempre dalla parte dei ricchi maigre aveva aggrottato le sopracciglia non tanto per quell'accusa del tutto gratuita ma per ciò che le parole della levatrice lasciavano intendere sono stati i fiamminghi stessi a dire in giro che al momento potevano anche avere dei fastidi con la polizia ma che non sarebbe durata e che le cose sarebbero cambiate quando fosse arrivato da Parigi un certo commissario sorrise con aria cattiva diamine gli hanno dato tutto il tempo di preparare le loro bugie a quelli là loro sanno benissimo che non si ritroverà mai il corpo della signorina Germaine mangia piccolino non avere paura e aveva le lacrime agli occhi mentre guardava il bimbo che era rimasto a fissare maigre col cucchiaio a mezz'aria c'è niente di particolare di cui mi vuole mettere al corrente chiese il commissario assolutamente niente i Peters le avranno dato di certo tutte le informazioni possibili e immaginabili e le avranno anche detto che il bambino non è del loro Joseph valeva la pena insistere? maigre era il nemico in quella misera casa alleggiava un'atmosfera carica di odio insomma se vuole vedere il signor Pietboe farà bene a ripassare verso mezzogiorno a quell'ora lui si alza e il signor Gerard ritorna dall'ufficio lo accompagnò a lungo il corridoio e gli chiuse la porta alle spalle al primo piano le imposte erano chiuse maigre trovò l'ispettore Mascher nelle vicinanze della casa dei fiamminghi intento a parlare con due battelier dai quali si congedò appena vide il commissario che cosa dicono? parlavamo dell'Etoile Polaire gli sembra di ricordare che il 3 gennaio il proprietario ha lasciato il caffè de Marinier verso le 8 ubriaco come tutte le sere a quest'ora sta ancora dormendo sono appena salito sulla sua barca e non mi ha nemmeno sentito dietro la vetrina della drogheria si intravedeva la testa bianca della signora Peters che osservava i poliziotti la conversazione procedeva in maniera frammentaria e i due uomini si guardavano attorno senza soffermarsi su nulla in particolare da una parte c'era il fiume che aveva travolto le chiuse e trascinava i relitti a una velocità di 9 km l'ora dall'altra la casa ci sono due ingressi disse Mascher quello che vediamo è un altro sul retro nel cortile c'è un pozzo e si affrettò ad aggiungere l'ho controllato credo di aver frugato dappertutto eppure non so perché ho l'impressione che il cadavere non sia stato gettato nella mosa cosa ci faceva quel fazzoletto da donna sul tetto lo sa che è stato trovato il motociclista me l'hanno comunicato ma questo non prova che Joseph Peters non fosse qui quella sera verissimo non c'era nessuna prova né a favore né contro e non c'era neanche un testimone attendibile Germaine Piedbeuf era entrata nel negozio verso le 8 e i fiamminghi sostenevano che se n'era andata qualche minuto più tardi ma nessun altro l'aveva vista tutto qui i Piedbeuf accusavano i fiamminghi e chiedevano 300.000 franchi di risarcimento danni due mogli di battelieri entrarono nella drogheria facendo tintinare il campanello lei crede ancora commissario io non credo un bel niente caro ispettore a più tardi entrò a sua volta nel negozio le due clienti si fecero da parte la signora Peters chiamò Anna e si affrettò ad aprire la porta a vetri della cucina si accomodi signor commissario Anna viene subito sta facendo le camere tornò a occuparsi delle sue clienti e il commissario attraversata la cucina imboccò il corridoio e salì lentamente su per la scala Anna non doveva aver sentito da una camera con la porta aperta venivano dei rumori e tutta un tratto ma i grevi della ragazza con un fazzoletto hanno dato intorno alla testa intenta a spazzolare un paio di pantaloni da uomo lei vide il visitatore riflesso nel vetro si girò di scatto e lasciò cadere la spazzola ah era qui commissario restava sempre la stessa anche se era vestita da casa con quella sua aria da ragazza per bene un po' distaccata mi scusi mi hanno detto che era di sopra è la camera di suo fratello questa si è ripartito stamattina all'alba l'esame è molto difficile e lui vuole superarlo col massimo dei voti come i precedenti sopra un comò c'era un grande ritratto di Marguerite van de Vert con un vestito chiaro e un cappello di paglia di Firenze la ragazza aveva scritto con caratteri allungati e aguzzi l'inizio della canzone di Solveig forse inverno e primavera passeranno Maigret prese in mano il ritratto Anna fissava intensamente il commissario ma nei suoi occhi c'era una punta di diffidenza quasi temesse un sorrisetto ironico sono versi di Ibsen gli disse lo so e Maigret recitò la fine della poesia finché ritornerai amore bello io qui ti aspetterò e se lassù mi aspetti lassù ti incontrerò e tuttavia fu sul punto di sorridere guardando i pantaloni che Anna aveva ancora in mano quei versi appassionati erano del tutto fuori luogo incongrui o commoventi nel clima austero di quella camera da studente Giuseppe Peters lungo e magro mal vestito con quei suoi capelli biondi che la brillantina non riusciva ad omare con quel naso sproporzionato e gli occhi da mio pe amore bello e quel ritratto quella piccola provinciale di una grazia stucchevole non era certo lo scenario fascinoso del dramma di Ibsen lei non gridava certo alle stelle il suo amore eterno da Borghesuccia qual era si limitava a ricopiare dei versi sopra una fotografia io qui ti aspetterò e aveva aspettato davvero malgrado Germain Pietboeuf malgrado il bambino malgrado il passare degli anni Maigret provò un vago senso di disagio guardò il tavolo rivestito di carta assorbente verde con un calamaio di rame certamente un regalo e dei portapenne di galalite aprì meccanicamente uno dei cassetti del Comò e in una scatola di cartone senza coperchio vide alcune foto scattate da un dilettante mio fratello ha la macchina fotografica un gruppo di giovani col berretto da matricola Gioseph sulla moto con la mano sull'acceleratore pronto per una partenza Arazzo Anna seduta al pianoforte un'altra ragazza più magrolina più triste è mia sorella Maria ed ecco che a un tratto salto fuori una piccola foto formato tessera funerea come tutte le foto di quel genere per via del contrasto violento fra bianco e nero raffigurava una ragazza fragile e minuta come una bambina con due occhioni enormi che si mangiavano tutto il viso in testa portava un cappello ridicolo e guardava verso l'obiettivo con aria angosciata è Germain vero? suo figlio le assomigliava era malata? ha avuto la tubercolosi non aveva una gran salute Anna invece sì che ne aveva era alta e ben piantata e soprattutto godeva di un equilibrio fisico e morale sconcertante aveva finito per appoggiare i pantaloni sul copriletto sono appena stato a casa sua cosa le hanno detto? certamente hanno ho visto solo una levatrice e il bambino la ragazza non fece altre domande come per pudore c'era una sorta di riservatezza nel suo modo di fare la sua camera è qui accanto? sì è la camera mia e di mia sorella il commissario aprì la porta di comunicazione che collegava i due locali l'altra stanza era più luminosa perché le finestre davano sul lungo fiume tutto era in perfetto ordine il letto già rifatto e neanche un indumento in giro solo due camicie da notte ben piegate sui due cuscini lei ha 25 anni? 26 maigre aveva voglia di farle una domanda ma non sapeva come formularla è mai stata fidanzata? mai ma non era proprio quello che avrebbe voluto chiederle si sentiva sconcertato di fronte a quella ragazza soprattutto ora che vedeva la sua camera sconcertato come davanti a una statua enigmatica si chiedeva se quel corpo così poco seducente avesse già palpitato se lei non fosse soltanto una sorella affezionata una figlia modello una brava padrona di casa una Peters se sotto quelle apparenze insomma ci fosse una vera donna Anna non abbassò lo sguardo non si schermì certamente si era accorta che il commissario stava esaminando le sue forme oltre che i suoi lineamenti ma non mostrò il minimo segno di imbarazzo non vediamo nessuno a parte i nostri cugini Van de Vert Maigret ebbe un attimo di esitazione e la sua voce non fu del tutto naturale quando disse le chiederei di prestarsi per un esperimento le spiace scendere in sala da pranzo e suonare il piano fino a quando la chiamo se è possibile lo stesso pezzo del 3 gennaio chi è che suonava quella sera? Marguerite lei canta accompagnandosi al piano ha preso lezioni di canto si ricorda che pezzo era? è sempre lo stesso la canzone di Solveig ma io non capisco un semplice esperimento Anna uscì camminando a ritroso e fece per chiudere la porta no la lasci aperta pochi attimi dopo le dita correvano svogliatamente sulla tastiera accennando qualche accordo slegato Maigret senza perdere tempo aprì gli armadi della camera delle ragazze il primo era quello della biancheria personale e conteneva pile ordinate di camice mutande e sottogonne stirate con cura gli accordi cominciarono a legarsi armonicamente adesso si poteva riconoscere l'aria e intanto Maigret frugava con le sue grosse dita in mezzo alla biancheria di tela bianca se qualcuno l'avesse visto l'avrebbe certamente scambiato per un innamorato o piuttosto per uno che sfogava una qualche passione nascosta si trattava di biancheria spessa robusta indistruttibile senza la minima pretesa di civetteria i capi appartenenti alle due sorelle dovevano essere mescolati insieme il commissario passò a esaminare il contenuto di un cassetto calze giarretiere scatole di forcine per capelli niente cipria niente profumi a parte un flacone d'acqua di colonia russa che doveva servire solo per le grandi occasioni il suono aumentò di intensità la musica riempì tutta la casa e a poco a poco una voce prese ad accompagnare il piano fino a prevalere finché ritornerai amore bello io qui ti aspetterò non era margherite che cantava era anna peters scandiva tutte le sillabe sottolineando certe frasi con accenti nostalgici le dita di mege continuarono a frugare in mezzo agli indumenti delle ragazze finché da una pila di biancheria provenne un fruscio che non era di tela ma di carta un altro ritratto una fotografia un po' sfocata color seppia di un giovane con i capelli ricci i lineamenti delicati e il labbro superiore rialzato in un sorriso fiducioso un tantino ironico maigre non capiva che gli ricordava quel viso ma qualcosa gli ricordava e se lassù mi aspetti lassù ti incontrerò una voce profonda mascolina che si spegneva lentamente poi una domanda devo continuare signor commissario maigre chiuse le ante degli armadi si mise la foto nella tasca della giacca e tornò rapidamente nella stanza di joseph peters no basta così notò che al suo ritorno anna era più pallida aveva forse cantato con troppo sentimento la ragazza perlustrò con lo sguardo tutta la stanza senza trovarvi niente di anormale non capisco vorrei farle una domanda signor commissario ieri sera lei ha visto joseph che cosa ne pensa lo crede capace mentre era di sotto si era tolta il fazzoletto che le copriva la testa e maigre ebbe perfino l'impressione che si fosse lavata le mani tutti capisce continuò la ragazza tutti devono riconoscere la sua innocenza lui deve essere felice con marguerite van de vert anna sospirò senza dire nulla quanti anni ha sua sorella maria ventotto tutti dicono che diventerà la direttrice della scuola di namur maigre toccò il ritratto che aveva nella tasca nessun innamorato e lei subito maria lo disse con un tono che significava maria un innamorato lei non la conosce devo andare a proseguire l'inchiesta disse maigre dirigendosi verso il pianerottolo ha già ottenuto qualche risultato non lo so anna lo seguì giù per le scale mentre attraversavano la cucina il commissario scorse il vecchio peters che era andato a sedersi nella sua poltrona e che probabilmente non lo vide nemmeno non capisce più niente sospirò anna nella drogheria c'erano tre o quattro persone la signora peters che stava riempiendo dei bicchieri di acquavite salutò inclinando il busto senza posare la bottiglia poi riprese a parlare fiammingo stava di certo spiegando ai clienti che il visitatore era il commissario venuto da Parigi perché i battiglieri si girarono a guardare maigre con rispetto fuori l'ispettore mascher era intento a esaminare un tratto di terreno dove il suolo era meno compatto che altrove novità chiese il commissario non so continuo a cercare il cadavere finché non ci mettiamo sopra le mani sarà impossibile incastrare quella gente e si voltò verso la mosa con l'aria di dire che il corpo non era finito là dentro maigre con l'aria di dire che il nostro Grazie a tutti.